La regione Piemonte si è dimesso perché è indagato per voto di scambio politico mafioso e le opposizioni chiedono le dimissioni del presidente Cirio. Secondo lei si deve dimettere? Secondo me non si deve dimettere nessuno. La magistratura deve fare rapidamente il suo compito, ovvero appurare se le accuse sono effettivamente vere. Se lo sono punire chi ha sbagliato, se non lo sono prosciogliere, ma credo che si debba agire in questi casi con prudenza, buonsenso, garantismo e attenzione. Quindi lasciamo lavorare ai magistrati di cui ho piena fiducia.